Ciao Glow Family, oggi è 2 febbraio e stavamo aspettando questo evento veramente da tanto tempo perché oggi finalmente andrò a fare un restyling ai miei capelli e farò un semplicissimo e banalissimo vlog in cui vi porto con me però a me non piacciono molto le cose banali Vero? Prendiamo questo vlog un po' più Glow Joint Style Prima di iniziare spieghiamo velocemente che cosa andrò a fare a questi capelli Ieri avevo lanciato un sondaggio su Instagram A quanto pare non abbiamo proprio scelto il giorno migliore per vloggare Immaginiamo per un attimo che oggi ci sia il giorno Tu sai che è febbraio? Febbraio è il mese dell'amore e soprattutto il mese delle cacchiere cioè quei dolci tipici fritti che si mangiano buonissimi ma quindi il mese di carnevale ed infatti guardate un po' mia madre come ha addobbato questo alberello che fino a qualche mese fa aveva le paglie di Natale mentre adesso Sono pronta per andare ad un ballo in maschera oggi in realtà sembro più una pasta organinja Donatello No no per la serie tv verità è la sfiga oggi posso capire che non uso questa macchina forse da circa due mesi però proprio adesso li dovevi scaricare Anzi qui c'è pure una bella luce Allora io ce l'ho fatta ad arrivare non so come però comunque devo dire una cosa io mi vergogno a vloggare in pubblico infatti è la prima volta che lo faccio però scusate una cosa ma quando è che mi ricapita l'occasione di farmi i capelli da parrucchiere che ha acconciato che arrabbiati ma stiamo scherzando quindi per forza Allora io ce l'ho fatta ad arrivare in pubblico Adesso dobbiamo aspettare un bel pomizzo prima che è Scusa ma quanti minuti abbiamo oggi? 40 minuti Oddio Vabbè magari ci prendiamo qualcosa Allora io ce l'ho fatta Oh è quasi Sì 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 Sì